Gentili amici di Cuneo24, a tutti buonasera. Se si era già messo in conto un peggioramento per questo fine settimana, e purtroppo ve lo devo confermare, quindi tante precipitazioni e soprattutto tanta neve. Il zero termico e soprattutto il limite pioggia-neve nelle prossime ore si alzerà di molto e quindi navicherà anche in alta montagna e questo scioglierà la nuova che era presente e questo pericorsi d'acqua penso che sia un aggravante. Vediamo la situazione di questa notte alle due locali, mezzanotte GMT. Vedete che si appresta ad arrivare questa grande, organizzata depressione. Un primo fronte occluso, una linea di instabilità a carattere temperato. Non dico caldo perché se no pensate che andiamo in estate, no, a carattere temperato. Un altro fronte occluso, una linea di instabilità a carattere fresco e poi ci sarà questa ritornante occlusa sul Golfo di Biscaglia che chiuderà i giochi domenica mattina. Quindi la previsione è di cielo molto nuvoloso coperto con precipitazioni diffuse, forti, a tratti molto forti. Lo zero termico attualmente si innalzerà a 2000 metri, magari adesso è più basso, però durante la notte arriverà a 2000 metri e il livello della neve intorno a 1300-1500 metri. Temperatura di cuneo o perlomeno della pianura questo pomeriggio tra 5 e 7 gradi. Domani è anche la giornata di domenica con il cielo coperto, con piogge localmente, senz'altro saranno anche a carattere nevoso, abbondanti. Si innalzerà ulteriormente lo zero termico, soprattutto domenica, a 2300 metri e nevicherà fra 1800 e 2000 metri. Temperature minime intorno a 2-4 gradi in pianura, le massime tra 5 e 7. In lieve aumento domenica pomeriggio, quando vedremo le prime schiarite. Io parlerei di lunedì e martedì con un cielo tra poco nuvoloso e nuvoloso, quindi vedremo qualche bel fazzoletto di azzurro, però faranno temperature metti e lo zero termico addirittura a 2500 metri. E questo è un aggravante, come vi dicevo, per lo scioglimento delle precedenti nevi. È tutto, buonasera e abbiate cura di voi. Bene.